non è morto ciò che in eterno può attendere e col passare di strani eoni anche la morte può morire salve a tutti ragazzi io sono cor96 e benvenuti in questo nuovo video oggi ci spingeremo a fondo nel mistero dei miti ci addentreremo nell'occultismo più macabro e scaveremo nella lore di uno dei personaggi più famosi della letteratura horror e fantascientifica del diciannovesimo secolo perciò mettetevi comodi afferrate uno snack e preparatevi a perdere la vostra sanità mentale perché oggi si parla del grande e terribile ctulu ctulu o clulu è una creatura interstellare e senza tempo dalla stazza e dalle forze indescrivibili partorito dalla penna dello scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft nato a Providence Rhode Island nel 1890 fin da giovane Lovecraft si è sempre mostrato come un profondo ammiratore di tutto ciò che fosse legato a temi macabri e dal gusto goticheggiante la cui influenza si fa sentire fortemente nella sua produzione letteraria permeata da elementi fantastici e orrorifici ma con la particolarità di non cadere mai nel grottesco o nel banale sebbene nutrisse e non nascondesse controverse teorie razziali e volutesi durante gli anni sicuramente si deve atto a Lovecraft di essere stato un autore prolifico nonostante la sua scomparsa prematura avvenuta nel 1937 in particolare Howard Phillips Lovecraft non godette di molta notorietà ai suoi tempi sicuramente per via dei suoi temi ricorrenti e del suo stile di scrittura ma l'autore verrà riscoperto più in là verso la fine del ventesimo secolo ad oggi i suoi scritti e le sue creazioni sono entrate prepotentemente nella cultura popolare grazie alla fama sempre maggiore della sua creatura per eccellenza appunto Cthulhu. Cthulhu è infatti il protagonista in diretto di molti dei suoi racconti o storie brevi tanto che oggi è possibile parlare di un vero e proprio ciclo di Cthulhu che comprende tutte le opere legate al famigerato e oscuro culto di Cthulhu. Tuttavia la descrizione più precisa e dettagliata di Cthulhu ci viene fornita dall'opera Il richiamo di Cthulhu in inglese The Call of Cthulhu del 1926 ma prima di provare a descrivere fisicamente Cthulhu è doveroso dire che anche solo la vista di una figura del genere secondo Lovecraft sarebbe in grado di condurre anche l'uomo più avveduto alla più completa pazzia. Questo perché si fa riferimento a creature dell'aspetto così alieno da risultare totalmente inconcepibili alla limitata mente dell'essere umano e nessuno è mai stato in grado di sostenere la vista di queste creature senza aver perso più o meno lentamente la propria sanità mentale. Cthulhu è descritto dallo stesso Lovecraft come una creatura enorme, una montagna semovente dalle proporzioni impossibili e con una fisicità che ricorda allo stesso tempo sia una piovra che un drago ma anche con dei tratti umanoidi. La testa o quella che sembra essere tale è molto simile a quella di un polpo e alla base di essa spuntano una moltitudine di tentacoli. Lunghe zampe con artigli affilati costituiscono invece le estremità dei suoi arti sproporzionati e l'orrenda figura culmina con la presenza di grandi ali membranose sul dorso. La pelle può apparire viscida e semitrasparente tanto che sarebbe possibile intravedere anche alcune porzioni della struttura interna dell'essere. Un'altra caratteristica su cui si sofferma lo scrittore è sicuramente l'odore o per meglio dire il fetore emanato da questo abominio. Questo viene descritto come un puzzo immondo, immaginabile solo come l'insieme di mille cadaveri misto a qualcosa di così antico che trascende il tempo stesso. Inoltre si ha motivo di credere che sia un essere virtualmente invincibile, dotato di fantastiche doti rigenerative e spaventosi poteri psichici oltre alla sua mostruosa forza fisica. Se vi interessa approfondire l'aspetto grafico legato alla figura di Cthulhu vi consiglio il manga del Il Richiamo di Cthulhu secondo l'adattamento e i disegni di Gotanabe dove vi sono tavole davvero belle e dal grande potere immersivo. Comunque Cthulhu è anche in grado di comunicare tramite i sogni con i suoi discepoli o comunque con coloro che mostrano una spiccata sensibilità artistica come pittori, scrittori e musicisti. Questo lo vediamo particolarmente nell'orribile notte del marzo 1925 quando si dice che artisti di tutto il mondo e altri individui della fervida immaginazione furono tormentati da una stessa visione d'incubo nella quale una voce misteriosa rimbomba in una città dalle geometrie impossibili e una figura tentacolare e stende la sua ombra aliena sull'umanità intera. Ma come abbiamo accennato c'è anche da dire che esiste un vero e proprio culto di Cthulhu nell'immaginario lovecraftiano ovvero un culto che si tramanda di generazione in generazione in forma orale tra alcune popolazioni sparse in giro per il mondo ma che si pensa sia originario della rabbia. Questi venerano Cthulhu come una vera e propria divinità e non fanno altro che effettuare sacrifici al dio cantando orribili litanie in attesa del suo risveglio. La frase più ricorrente durante questi incontri è sicuramente il ritornello Cthulhu Ftang e tutta una serie di altre formule la cui traduzione dovrebbe essere più o meno la seguente. Nella sua dimora a Rlie il morto Cthulhu attende sognando. Un'altra peculiarità è l'interesse mostrato dai membri del culto verso chiunque si riveli tanto folle da addentrarsi a fondo nel mistero dei miti. Chi arriva a conoscere tanto o forse troppo stranamente finisce o ucciso misteriosamente o se ne perdono per sempre le tracce. Cthulhu è quindi un essere quasi paragonabile a una divinità. Di lui si sa che fa parte di un popolo a cui ci si riferisce col nome di Grandi Antichi. Si parla di una sorta di razza primordiale e aliena che è arrivata sul pianeta Terra centinaia di migliaia di anni prima ancora della venuta dell'uomo. Di solito Cthulhu viene descritto anche come il principale sacerdote di questa razza primigenia. Secondo quanto descritto da Lovecraft nei suoi diversi racconti, grazie a una rete di citazioni e richiami sappiamo che di queste razze aliene ne sono esistite più di una senza escludere che ne esistano ancora di nuove. Questi esseri sono giunti sulla Terra direttamente dai più profondi angoli dello spazio cosmico e in diversi periodi di tempo. I primi ad arrivare sul globo terraqueo sarebbero stati gli Antichi. Le più complete notizie degli Antichi si hanno dal romanzo Alle montagne della follia del 1931. Gli Antichi sono alieni che sono arrivati sulla Terra miliardi di anni fa e dotati di un intelletto enormemente avanzato, tanto che eressero città sia in fondo al mare che sulla terraferma, grazie all'aiuto di esseri da loro creati e detti Shogoth. Gli Antichi erano dotati di una fisionomia e di conoscenze che ad oggi sarebbero anche solo impensabili. Non avevano particolari bisogni fisici da soddisfare ed erano in grado di creare nuove forme di vita tra cui gli Shogoth ma anche altre, il che li rende plausibili come progenitori della vita stessa sulla Terra. Gli Antichi si ritrovarono purtroppo al centro di diversi conflitti con altre razze altrettanto aliene che invasero la Terra come i Migo o la progenie stellare di Cthulhu. Questi conflitti li costrinsero a ritirarsi nelle loro città sottomarine e nell'ultima città emersa situata nell'attuale continente antartico dove alcuni superstiti rimasero ibernati. Poi ci sono i Grandi Antichi che hanno respinto gli Antichi e Pereoni hanno dominato la Terra costruendo gigantesche città in ogni dove. Queste creature hanno un legame molto stretto con la configurazione astrale delle stelle tanto che uno squilibrio di queste ultime fu ciò che li costrinse al ritiro come nella città di Irlie che oggi giace sommersa. Questi esseri tra cui il Grande Cthulhu e il suo fratello o fratellastro Astor detto il re in giallo attendono il momento propizio per poter essere liberati anche se in realtà è necessario anche un intervento esterno. Ecco perché Cthulhu cerca di attirare a sé i mortali. Tuttavia Cthulhu non è l'essere più potente dell'universo. Questo perché esistono i cosiddetti dei esterni, esseri contraddistinti da una forza che trascende anche quella delle altre categorie citate. Questi sono vere e proprie divinità che regolano non solo il mondo ma l'universo intero. Lovecraft le descrive appunto come divinità del tutto indifferenti o al massimo maligne nei confronti degli esseri viventi. Il più grande tra loro è il potente Azatoth, il dio cieco e idiota che si trova al centro del cosmo. Si dice che fu lui a creare ogni cosa ma che adesso risiede nel nulla mentre attende sognando. Un'altra versione invece vede tutto ciò che è reale come frutto di un sogno del dio e quindi se dovesse risvegliarsi in un attimo tutto quanto cesserebbe semplicemente di esistere. Il messaggero di questi dei esterni è invece Nyarlathotep, il caos strisciante, subdolo e maligno e si occupa non solo di intervenire tra le faccende degli altri dei ma è anche responsabile del lungo sonno di Azatoth. Cthulhu come abbiamo detto si dice che ad oggi dimori all'interno di Irlie, un'abominevole città dalle geometrie e dalle proporzioni mostruose che si trova nelle profondità di una località sconosciuta dell'oceano pacifico. Il grande morto Cthulhu si trova imprigionato in questa città sul fondale oceanico e qui attende sognando che le stelle si allineino in maniera propizia per favorire il suo risveglio. Altre informazioni su Cthulhu e sui miti a esso collegati si ritrovano nel misterioso Necronomicon, il famoso libro proibito scritto dall'arabo pazzo Abdul Al-Hazred circa nel 730 d.C. Il Necronomicon è un libro fittizio che Lovecraft introduce per la prima volta nel 1921 col racconto La città senza nome e che riprenderà più volte anche in altre opere rivestendolo di un'importanza fondamentale all'interno dell'universo Lovecraftiano. Sempre secondo Lovecraft, una delle rare copie di questo orribile Necronomicon si trova conservata all'interno della biblioteca della Miscatonic University, un'università fittizia sita ad Arkham, un'altrettanto fittizia città che dovrebbe trovarsi nello stato del Massachusetts. La Miscatonic University è famosa soprattutto per aver fatto partire la spedizione scientifica alla base del romanzo Alle montagne della follia, che come abbiamo visto si incentra sulla scoperta in Antartide di una delle città degli antichi. Ma ritorniamo a noi. Cthulhu è ormai una figura di un certo peso all'interno del panorama horror e della cultura pop moderna e ne esistono una miriade di interpretazioni e rielaborazioni. Si pensi a tutti gli scrittori successivi a Lovecraft che utilizzano il mito da lui creato come spediente per i propri romanzi, oppure a quelle opere che anche solo tramite cenni e citazioni non fanno che riprendere la tradizione letteraria Lovecraftiana. Ci sono parecchi film che riprendono alcune opere dell'autore, anche se solo pochi sono davvero validi e rendono giustizia agli scritti originali. Come abbiamo visto anche nel caso di Gotanabe, si parla anche di manga, ma pure di musica e altro ancora. Dal punto di vista dei giochi, ci sono un sacco di giochi di ruolo attorno al ciclo di Cthulhu, ma anche videogiochi e giochi da tavolo. Piccola parentesi su questi ultimi, se siete interessati vi rimando ai rispettivi unboxing che ho realizzato qui sul canale su Cthulhu Death May Die della Cool Mini Or Not e su Arkham Horror Seconda Edizione della Fantasy Flight Games. Per non parlare poi di giochi come Dark Souls o Bloodborne che, tra le migliaia di citazioni multimediali che possiedono al loro interno, sicuramente molte sono legate a quelli della narrativa di Lovecraft. Bene ragazzi, che ne pensate di Cthulhu e degli altri orrori generati dalla penna di Lovecraft? Anche voi siete affascinati dai macabri temi del mito? Oppure guardate con distacco alle opere dello scrittore di Providence? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, vi invito anche a suggerirmi quale argomento vi piacerebbe che portassi in questa rubrica, insomma in stile Core 96 per intenderci. Il video finisce qui, ma se il contenuto ti è piaciuto ti invito a supportare il canale iscrivendoti, lasciando un mi piace e condividendo il video con i tuoi amici. Inoltre, ti ricordo di cliccare sulla campanellina accanto al tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del canale. In questo modo non perderai gli ultimissimi episodi di lore o le altre rubriche che porta avanti qui su YouTube. Detto ciò, un saluto, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ma se non volete aspettare, seguitemi sui social.